Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 per Lavori, un chilometro di coda tra Massa e Versilia in direzione Livorno. Code a tratti in direzione Genova tra il Bivio per Viareggio e Versilia. Sulla FIPILI rallentamenti per un veicolo in avaria tra Ginestra, Fiorentina e Scandici in direzione Firenze. Sempre sulla FIPILI è chiusa l'entrata di Pisa Nord-Est in direzione Firenze. Su raccordo autostradale Siena-Firenze, restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Bonzi e Tavarnelle. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo sulle autostrade e sulle strade a lunga percorrenza. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.